No, amore, non la stavo guardando, non la stavo guardando, no. No, è che... Dunque, trovandomi nella necessità di guardare davanti a me, per non cadere per terra, mi è comparsa l'ecapo visivo. Che dovevo fare? Lo so, era bene, era bene, lo so. Non è colpa. Un conto è guardare una persona con intenzione. Un conto è quando una ti capita, ti capita davanti agli occhi, capisci? Cioè io, trovandomi nella circostanza di guardare davanti a me, per non smattere su un palo, per non cadere su un fosto, l'ho dovuta guardare, amore mio! Certo, non me la ricordo come era, l'ho guardata, era... Dunque, un ventito rosso, spalle pronunciate, seno, un culo normale, un culo normale, di serie, un culo, un organo adibito da tempo a una certa funzione biologica, insomma, tutti hanno un culo, amore, tutti hanno... Ci avrei provato con tutte le tue amiche, ma stai scherzando? Ma, 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 ma questo è per noi, ma poi per forza uno si guarda in giro, no? Eh? No. No! Te l'ho detto tremila volte, amore, era un'amica, era un'amica, non la stavo baciando sul collo, erano amici in discoteca, per cui c'era un rumore, e quindi un amici in discoteca, se non urli hanno detto di una persona, come fa a sentirti? Eh? Vabbè, lasciamoci, ok, lasciamoci. Non posso fare tutte le volte stesse discussione, io ti voglio bene, ma, broca, sì, lasciamoci, sì, sì, lasciamoci. Che fai? Che fai, no? No, dai. Che fai? No, dai. Ci stiamo lasciando, no? No, fermo. No. No. Ferma, fermo.